Ha compiuto 150 anni il premio Turio Coppello, un incontro consolidato nel tempo dalla società economica di Chiavari. Il premio assegnato quale riconoscimento per le loro attività ad artigiani ed artisti che operano nel circondario di Chiavari nasce dalle disposizioni testamentarie delle signore Teresa Brignardello Vedova Turio e Maria Rosa Cassani Vedova Coppello e assegnato su delibera di un'apposita commissione presieduta dal dottor Sergio Gabrovec e composta dai soci Michela Canepa, Franco Casoni, Vittoria Gozzi, Marco Laneri, Mario Rocca e Bruno Ronco. Quest'anno abbiamo deciso di premiare sia come commissione sia come ufficio di presidenza perché i premi alla carriera vengono dati dall'ufficio di presidenza. Abbiamo deciso di premiare delle personalità del territorio che hanno sempre operato e lavorato per il territorio. Sono 231 anni che abbiamo questo compito e speriamo di poterlo continuare ancora per il futuro. Cinque i premiati, uno per la sezione arte, uno per la sezione artigianato e tre premi speciali alla carriera. Il premio per la sezione arte è stato assegnato a Giovanni Talami, nato a Lavagna e cresciuto nella scuola chiavarese del fumetto, iniziando l'attività professionale con Renzo Calegari. Ha assunto nel tempo la direzione artistica di prodotti multimediali per l'azienda Ferrero. Regista di cartoni animati interattivi per il mercato americano, ha realizzato numerosi lavori di illustrazione ed è diventato il disegnatore di punta del nuovo personaggio Morgan Lost. È il primo premio che prendo nella mia città, quindi per me ha un'importanza particolare. E tra l'altro più o meno cade anche dopo una trentina d'anni di lavoro mio. A che cose ha più affezionato dei suoi lavori? Ultimamente a quelli che devo ancora cominciare. Ora sono sempre alle prese con Morgan Lost. Anche se dopo otto anni comincio un po' a sentire un po' di fatica a innovare anche qualcosa proprio nei miei disegni e non nelle storie. Poi alla fine vedo che poi vengono sempre diversi. Mi fanno notare, perché io non noto niente, a me sembrano sempre uguali. Mi fanno notare che c'è anche un'evoluzione facendo sempre la stessa cosa. A chi vuole dedicare questo premio se vuole? Beh, io come ho detto prima lo dedico a Renzo Calegari. A Marco Barletta il premio per la sezione artigianato. Nato a Lavagna, gestisce un laboratorio di restauro. Diplomato in pianoforte al Conservatorio di Genova Niccolò Paganini, ha sviluppato le proprie competenze a partire dall'apprendistato a bottega e frequentando restauratori negli Stati Uniti. Qualificato nel settore dell'accordatura e fornitura di pianoforti e del restauro, è anche un importante collezionista di strumenti musicali rari. Un grande piacere, ma non un piacere diciamo personale, ma per il fatto che forse allora l'attività che svolgo, che è un po' un'attività di nicchia, che è quello di restaurare pianoforti antichi, eccetera, ha ancora un pochino un senso, un pochino viene riconosciuta. E quindi questo per me è una cosa molto bella. Ha voglia di dedicare questo premio a qualcuno? Se devo pensare forse alla persona che per prima proprio ha instillato il mio passione per la musica, direi mio nonno, che non c'è da tanto tempo, però è sempre presente. Lui era un organista amatoriale, però io mi ricordo quando avevo 4-5 anni mi portava nelle chiese a suonare, a vedere, insomma da lì è iniziato tutto. Premio alla carriera a Canzio Bucciarelli, rinomato pianista, organista, clavicembalista, già docente di pianoforte presso il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova. Il Lavanese Bucciarelli ha partecipato a numerosi concerti in altre tanti teatri e a registrazioni per vari emittenti televisive. Svolge attività didattica per il mondo della scuola ed è socio fondatore e presidente dell'Associazione Culturale Orchestra Regionale Ligure. È stata veramente una piacevolissima sorpresa. L'unica cosa è che mia moglie non c'è più e poteva esserci anche lei, ma vabbè. Quindi è una dedica? Certo, anche, anche. È un bellissimo ricordo, una bellissima occasione. La musica per me è stata la cosa principale, mi ha permesso di fare tanti lavori che mi piacevano. Io penso di essere stato fortunato. Premio alla carriera all'artigiano Giulio Rea, di origine pugliese, dal 1957 vive e lavora a Chiavari, dove ha aperto un'apprezzata sartoria, punto di riferimento di numerose famiglie della città. È stato presidente dell'Associazione Nazionale Artigiani di Chiavari e da sempre impegnato, con grande senso cifico, a tutela della sua città di adozione. L'artigiano, quello che nasce artigiano, si pensa anche all'insegnamento, cioè tramandare la nostra professione. L'artigiano oggi in generale non ha più spazio, non c'è più, tranne piccole nicchie, ma sono nicchie proprio. A chi dedica questo premio? A qualche mio maestro, verso i quali ho un ottimo ricordo, a dei miei colleghi, a qualche mio cosiddetto cliente, che poi più che clienti erano amici, persone con le quali abbiamo attraversato qualche decennio insieme. Premio speciale Renato Lagomarsino, giornalista e ricercatore della storia locale, autore di numerose pubblicazioni, responsabile dell'ascito cuneo nel comune di San Colombano, Certennoli. È promotore di iniziative, sempre volte a valorizzare lo sviluppo culturale della sua valle, autentico simbolo della Fontana Buona, è punto di riferimento di quest'area geografica. Io non ho titoli di studio, non ho titoli accademici, non ho frequentato l'università, se non quella della vita, l'università della vita, che mi ha insegnato tante cose e vorrei aggiungere che il premio che mi ha dato oggi lo potrei considerare praticamente il diploma di laurea della mia università. A chi la dedichi questa medaglia? La vorrei dedicare alla memoria dei miei genitori, delle mie moglie. In chiusura dell'affolato evento, l'esibizione a quattro mani al pianoforte del maestro Marco Barletta e del professor Canzio Bucciarelli ha dato l'appuntamento alla prossima edizione del prestigioso premio. Grazie a tutti i nostri spettatori